Se tu avessi accettato di venire qui al Senato per riferire sulla vicenda russa, una vicenda che oggettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale, che è un'attività che oggettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale, di condividere con lui le informazioni di cui sei in possesso.